Buonasera, il mio nome è Jan Lyons, sono il presidente di Cell Will Bing. Vi ringrazio molto per esservi uniti a noi questa sera in un webinar molto speciale dove presenterò il dottor Radha Krishna, che si è specializzato in biochimica ed è in realtà un medico e ha letto migliaia e migliaia dei nostri report. Con il suo team, insieme al nostro team medico, ha sviluppato la pagina sull'immunità ed il benessere dell'intestino che trovate nei nostri report. L'intestino è responsabile all'80% di molte cose che accadono nel nostro corpo. Abbiamo pensato che fosse molto importante che il dottor Radha vi facesse questa presentazione. Spero che la troviate interessante. Grazie per essere qui con noi. State con noi. Buon pomeriggio. Sono le 14 in Malesia. Credo siano le 19 in Nuova Zelanda. E in Australia circa le 5. Ok, sono un medico. Sono un formatore sull'epigenetica. Allora, in un report come questo, c'è una pagina dove trovate gli indicatori. La prima metà del seminario sarà sugli indicatori. Questa pagina è stata sviluppata da me. Ho sviluppato una ricerca sui nutraceutici basata su questo report e migliaia di rapporti che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Lasciate che vi spieghi di cosa si tratta, della forma, e poi lo suddividerò in componenti più piccoli. Riuscite a vedere quello che scrivo? Fantastico! Ok, l'intestino è come un tubo. Se tagliamo il tubo avremo una sezione trasversale che appare così. Questa sezione apparirà in questo modo. un unico rivestimento un unico rivestimento di cellule. si rigenera ogni tre o cinque giorni. Quindi il periodo di turnover è da tre a cinque giorni. cosa può causare un danno fisiologico? Uno metalli pesanti due sostanze chimiche tre batteri quattro parassiti cinque glutine e molti altri. Negli ultimi 5 anni quello che ho scoperto è che ci sono più di 20 più di 20 fattori che influenzano l'intestino. quindi se tornate qui ci sono più di 20 fattori che influenzano l'intestino. Così ora se dico 20 ho bisogno di classificare secondo il report la gravità di ciò che colpisce di più e ciò che colpisce di meno. Ok se si guarda l'intero grafico vi potreste confondere. quindi quello che ho trovato è è importante che capiate due cose bidimensionali e tridimensionale. L'esame del sangue è bidimensionale cioè diciamo che è un problema alla tiroide faccio un esame del sangue e so esattamente quello che dice la tiroide ma nella striscia è tridimensionale quello che intendo per tridimensionale è che diciamo che ho un forte mal di testa e quel giorno non ho voglia di mangiare cibo o non ho voglia di guardare la tv mi voglio isolare il mio mal di testa parla con molte altre cose mi connetto questo è tridimensionale quindi l'unità è più che altro tridimensionale così la unità è più di un noi tridimensionale non stiamo facendo un test diagnostico questo è un esame del sangue che dice se avete dei batteri e influenzerà voglio aiutarvi a capire quel componente dove più di 20 indicatori quello che ho fatto è dare valore al punto Y per ciascuno degli indicatori se per esempio di più così mi seguite 5 puoi alzare le dita 5 dita ok bene il numero più grande significa che l'indicatore disturba tutto il corpo il peggiore dei peggiori il numero 1 è materiale tossico e per questo ho dato un valore di 10 punti il computer non capisce la lingua inglese capisce l'algoritmo quindi i valori sono stati dati qui quindi 10 ovvero tra i metalli tossici che vi tornerò nella seconda parte cosa significa tutto questo ok quindi numero 2 colpisce il corpo e sono le sostanze chimiche quando vedi un report il numero 1 sono i metalli tossici il numero 2 sono le sostanze chimiche numero 3 batteri batteri il numero 3 sono i batteri qual è il numero 4 il quarto è la glutamina carenza di glutamina tratterò ognuno di questi lentamente ok il numero 5 è il gonfiore il glutine si basa sul tipo di dieta che stiamo facendo la dieta occidentale ha più glutine mentre la dieta asiatica ne ha meno dobbiamo stare molto attenti molto attenti questi sono i primi 5 indicatori che sono i più importanti non si deve guardare il punto si guarda questo 5 indicatori principali il resto sarà 8 punti 7 punti 6 punti 5 punti si va avanti per la priorità che deve coordinare con i metalli tossici che possono essere coordinati con la salute del cervello è tutto coordinato è tridimensionale la glutamina è relativa ai batteri i batteri sono relativi all'omega 3 perché tutto ciò crea infiammazione così andrò attraverso un po' uno per uno come questi tridimensionale e abbiamo questa spazzatura perché c'è allora la teoria è una cosa essere pratici è un'altra storia affronto centinaia di pazienti e formo medici in tutto il mondo soprattutto in Malesia e in India e mi trovo di fronte alla realtà mi trovo di fronte ai miei colleghi quindi ho bisogno di formare ognuno di loro il report è semplice però molti tra voi non sono medici ma quando imparerete a leggerlo metalli tossici metalli tossici quando lo vedrete capirete la grande preoccupazione cosa sono i metalli tossici questa è la grande muraglia cinese non importa quali integratori diamo si può passare attraverso la grande muraglia cinese linea di fondo finché e a meno che non si corregano i metalli tossici nessuna quantità di correzione sta andando a salvare quella persona e quello che ho notato negli ultimi cinque anni lo abbiamo superato diabete ipertensione malattie croniche come l'artrite psoriasi tutte legate a sostanze chimiche tossiche finché siamo su questa terra e abbiamo a che fare con metalli tossici c'è sempre un problema ok quando ci sono questi metalli tossici ovunque la prima domanda che dovete porvi è se avete amalgamati la maggior parte di loro è sotto forma di amalgamato questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i metalli tossici sono visti sul test ok in campo medico regolare la maggior parte dei medici non fa mai studi sui metalli tossici mi state seguendo? sì sì allora se fate così è ok oppure fatemi cena col 2 se non state capendo e mi ripeto ok numero 1 finché hai dei metalli tossici non importa quale trattamento tu dia dove c'è una linea di trattamento medico o una linea di trattamento nutrizionale temporaneo ti senti meglio ma tornerà questo è un argomento enorme su cui tornerò nella seconda parte ok siamo scesi oltre i primi metalli tossici qual è il secondo indicatore più importante e questo sono le sostanze chimiche così nelle sostanze chimiche se si va giù il report se vai giù nel report verrebbe un dato così quindi mostra prodotti chimici e idrocarburi ok quindi se volete sapere di più su questo quello che dobbiamo capire è andate alla pagina numero 28 è il numero 28 guardate qui sotto scusate è il segno rosso metalli tossici quando si fa clic sul download si ottiene un grafico qui siete esposti a metalli tossici o sostanze chimiche mi seguite? bene su il pollice si quando vedi le sostanze chimiche quando vedi le sostanze chimiche o i metalli tossici vai a pagina numero 28 e vai a questa sezione qui e clicca su questo link avrai un pdf da scaricare e ti dirà a quali metalli tossici potresti essere esposto a quali sostanze chimiche potresti essere esposto così di nuovo il secondo indicatore è che questa persona ha ottenuto queste sostanze chimiche che nessuno ha metalli tossici il numero 2 è sostanze chimiche di nuovo finché viviamo su questa terra siamo sempre esposti a sostanze chimiche ok quindi questo è il terzo indicatore vi chiedo di mettere i microfoni su muto perché altrimenti interferite con il discorso del dottor Rada per favore mettete i vostri microfoni su muto fino a quando non potrete fare delle domande grazie ok il terzo il terzo quindi abbiamo finito di nuovo metalli tossici sostanze chimiche il numero 3 sono i batteri quindi se dovessimo passare al batteriofago lo spazio di resistenza vedete i batteri evidenziati se è un batterio evidenziato questo significa che quando stiamo dando a qualcuno una nutrizione non adeguata o aspettiamo significa che si sta effettivamente alimentando i batteri cattivi i batteri cattivi in termini medici sono chiamati medicina funzionale ci sono due tipi di medicina che dovete conoscere la prima è la medicina allopatica dunque la medicina allopatica è quella tradizionale l'altra si chiama medicina funzionale o medicina funzionale integrata come medico non credo a tutto questo ma se vai alla medicina funzionale queste sono le prime cose da correggere perché i batteri sono un secondo cervello il microbioma è il secondo cervello microbioma è il secondo cervello quello che la maggior parte di noi non conosce è come una corretta alimentazione nutri i batteri buoni ok, il secondo indicatore nel terzo indicatore in questo intestino che è microbioma di batteri cattivi in medicina funzionale si chiama batteri anche conosciuto come si bo crescita batterica intestinale eccessiva significa che avete così tanti batteri cattivi che stanno effettivamente influenzando la vostra salute quindi abbiamo bisogno di correggere questo per correggere questo si può andare a pagina numero 29 se trovate un qualsiasi indicatore di batteri cattivi in arrivo per il dibattito numero 29 e 30 29 e 30 lì vi troverete i batteri cattivi anziché cibo da mangiare se hai metalli tossici o hai sostanze chimiche non dobbiamo andare prima su internet o da qualche medico è già scritto che la prima linea di gestione è provare prima nutrizionalmente se non viene ancora via ok, allora si passa alle squadre di gestione medica molti di voi non sono medici quello che farai io è iniziare con gli antibiotici per 5 giorni uccidere tutti i batteri cattivi e rimettere i batteri buoni i batteri buoni sotto forma di prebiotici e probiotici il prebiotico è un nutrimento per i batteri il probiotico è il batterio vero e proprio così numerosi studi sono stati fatti in tutto il mondo il futuro della salute umana si basa sui batteri ok se prendiamo una persona obesa e gli mettiamo l'impianto fecale di una persona magra ecco il soggetto obeso diventerà magro quindi il mondo è andato in quella direzione per cui finché la persona mangia il cibo sbagliato alimenta i batteri sbagliati questo è il terzo indicatore con cui abbiamo a che fare qual è l'indicatore principale il quarto indicatore principale si chiama glutamina quanti qui capiscono potete alzare il pollice allora aggiungerò a quanto ho capito insomma a quanto avete già capito il glutatione è un mercato da un miliardo di dollari è formato da tre molecole cisteina glutamina e glicina quindi è una molecola enorme ma quello che succede è che diciamo che c'è una carenza di glutamato ok lasciate che vi faccia un'analogia con quello che sto cercando di dire se abbiamo una carenza di vitamine se i vestiti nostri sono sporchi li mettiamo in lavatrice per lavarli quindi è la macchina della disintossicazione la più grande disintossicazione nel nostro corpo il corpo umano è il fegato se hai una carenza di glutamina nel fegato significa che il corpo sta cercando di eliminare qualcosa è come se tu avessi fame non importa di cosa hai fame hai fame così quando hai carenza di glutamina il corpo sta cercando di sbarazzarsi dei metalli tossici delle sostanze chimiche infiammatorie e si esaurisce non dobbiamo sezionare, dissezionare e cercare di decodificare quando avete una carenza di glutamina significa che il corpo sta cercando di liberarsi di qualcosa quando il corpo è a corto di glutamina diciamo di non andare oltre questo è il quarto indicatore questo significa che c'è una massiccia quantità di materiali tossici di sostanze chimiche e il corpo è impoverito di glutamina la glutamina è prodotta nei muscoli e il fegato è la madre di tutte le tossine è la glutamina il più grande motore di disintossicazione del corpo è il fegato ok il prossimo il quinto indicatore è il glutine il glutine è presente in tre alimenti principali nel grano nell'orzo e nella segale in questo report ho dato 10 punti a questo dato 9 punti e a quest'altro 8 punti quindi se vedete glutine qua su soprattutto il grano questo è uno dei cinque principali problemi dell'essere umano ok ok adesso ve lo dimostro il glutine a volte è associato agli OGM pollici in su per favore bene voi sapete cos'è l'OGM? adesso ve lo dimostro questo è tridimensionale non bidimensionale sembro serio? sono concentrato ok state vedendo le sostanze chimiche ho ragione li vedete? pollici su non sto cambiando nulla non c'è nessun trucco qui sto andando alla pagina questo è tridimensionale ok ora possiamo vedere qui ok potete vedere il mais? lo vedete il mais? sì è un OGM queste sostanze chimiche probabilmente provengono dal mais e capisco che questa persona sta mangiando un cibo OGM questo invece è un altro problema di una persona che diventa intollerante al cibo è necessario consigliare di non superare le sostanze chimiche evitando gli OGM chiedete loro di alimentarsi con il cibo biologico numero 4 il numero 5 è il glutine quindi torniamo indietro numero 1 metalli tossici numero 2 sostanze chimiche numero 3 numero 3 qual è il numero 3? batteri numero 4 glutamina numero 5 è il glutine queste sono le prime 5 cause principali della cattiva salute umana forme di disagio malattie croniche ok? queste pagine sono fatte in modo molto intelligente se avete una carenza di glutine prendete questa pagina se guardate fatemi tornare indietro potrete vedere lo squilibrio biologico ok? potete vedere il mais potete vedere l'idrocarburo quando lo vedete questo è collegato al mais potete vederlo chiaramente pollici in su bene ho cercato di farvi comprendere i concetti di base dei 5 indicatori il resto degli indicatori sono secondari e influenzano indirettamente questo è il fegato ha due modalità nel fare cose che interessano il corpo colpisce il corpo in due modi direttamente e indirettamente per esempio prendiamo la frequenza elettromagnetica la frequenza elettromagnetica influencerà indirettamente il microbioma ma non è tra i primi 5 perchè non riesco a individuarla e non sono in grado di dire che crea il problema nelle linee guida mediche devo sempre dimostrare e avere delle prove fino a quel momento i batteri possono prodursi a causa dei metalli tossici la presenza di metalli può essere scoperta attraverso esami del sangue i test delle urine o l'oligoscan tante persone e i loro clienti vengono a trovarmi alcune a basso reddito dopo aver esaurito le altre indagini prima di vedere me hanno già visto 4 o 5 specialisti hanno subito ricoveri terapie e diversi farmaci ma non sono migliorati tutto quello che faccio è indicare a loro che cosa hanno quindi se avete questa pagina avete un buon supporto potete leggere questa parte della pagina che vi da la maggior parte delle informazioni la pagina 1 sono gli indicatori la pagina 2 sono le informazioni e tutto è stato scritto da me è tutto semplificato non è necessario che tu sia un medico o un esperto per imparare queste competenze gli altri indirettamente ve li ho spiegati bene altri altri importanti indicatori potrebbero essere legati ai funghi al sulfo sulfo rafano ho carenze di aminoacidi richiesti dalla catena quello che vorrei fare adesso è fermarmi qui fermarmi qui fatemi delle domande sapete che ho formato dei medici pure loro sono a conoscenza dei report posterò a riguardo un video dopo il giorno 10 posso dirvi cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo pure senza i report che sono fantastici i report ti danno informazioni che l'esame del sangue non dà gli esami del sangue sono bidimensionali alcuni medici che vengono a discutere con me mi chiedono perché è di 3 perché la vitamina D3 non è in relazione con i test quale parte del corpo rappresenta la vitamina D nell'esame del sangue è il plasma, è il tessuto, è l'osso, è il cervello questo è tridimensionale non ci sono dubbi fatemi delle domande prima di passare al prossimo argomento mi lascio il compito di farmi delle domande apre il microfono bene salve dottor Rada io sono Tessa sono molto contenta di assistere a questo incontro veramente contenta mi piace moltissimo quello che ha detto quale tasso di successo ha avuto con i pazienti che hanno seguito il protocollo raccomandato che percentuali di successo ha avuto? successo? puoi riformulare e quantificare la domanda per favore? beh in termini di percentuali di successo lei conosce ogni paziente che ha seguito il protocollo raccomandato nel suo report sa quanto è alto successo in termini di miglioramento del paziente? posso farle una domanda? lei è un medico? no al momento studio medicina funzionale ok io ho invertito il diabete sulla base di questi indicatori nella storia del mondo ci sono milioni di articoli scritti sul diabete ma ho visto solo un centinaio di casi di diabete risolti per la prima volta nella storia un gruppo di medici può essere formato su un sistema chiamato rk5 system per invertire il diabete sulla base di questi indicatori attenzione in malesi abbiamo circa 3,6 milioni di diabetici che è il 10 per cento della popolazione malese in india abbiamo circa 100 milioni di diabetici quasi il 10 per cento registrati quelli non registrati potrebbero essere di più ci sono altri 100 milioni di ipertesi così ho sviluppato integratori nutraceutici che non sono disponibili in Australia o Nuova Zelanda o Malesia o qualsiasi parte del mondo bene sto affermando che ho sviluppato integratori nutraceutici basati su migliaia di test questi sono dati umani non da topi o scimmie sono dati umani sulla base di questi stiamo invertendo le malattie croniche dall'insufficienza cardiaca al diabete ma non voglio trattare di cancro quindi se mi fate una domanda aperta come questa sarà difficile dovete essere molto specifici con me si tratta di autoimmunità o di epilessia o di autismo è un'artrite reumatoide? questa è una domanda molto ampia io sono molto mirato in quello che faccio attualmente ho già formato circa 15 medici che possono invertire qualsiasi diabete in qualsiasi parte del mondo nessuno può dire altrettanto ho intenzione di sviluppare mille centomila dati e inviarli alle Nazioni Unite entro i prossimi cinque anni sulla base di questo report semplice ho risposto alla sua domanda? si grazie scusa per la domanda non specifica però ho capito guarda sai è così bello per esempio io ho un gruppo whatsapp di medici sono circa 190 che stanno invertendo l'insufficienza cardiaca utilizzando i miei integratori usando il protocollo ci sono cinque passi per invertire il diabete per invertire l'ipertensione e cinque passi per invertire l'arresto cardiaco per il blocco cardiaco non c'è bisogno di fare l'operazione questo è ciò che so io e voi vediamo la stessa cosa vedo in modo tridimensionale abbiamo superato l'artrite reumatoide e anche i problemi della pelle è molto facile ok? altre domande? posso fare una domanda? lei dice che se abbiamo i batteri dobbiamo prendere antibiotici e prebiotici e probiotici non sarebbe utile un antinfettivo prima di concentrarsi sulla nutrizione? perché se ci concentriamo sulla nutrizione sicuramente non stiamo assorbendo i nutrienti dal cibo soprattutto se si tratta di un batterio cronico questa è un'ottima domanda è una domanda fantastica ci sono due modi per eseguire una sostituzione batterica nell'intestino in primo luogo si va alle pagine di nutrizione 29 e 30 il primo passo è quello di correggere lo stato nutrizionale dell'intestino si danno certi alimenti come mirtillo e olio di cocco e se una persona è ancora sintomatica allora si interviene con l'antibiotico per esempio quando si uccidono i batteri i batteri sono coinvolti nella produzione di dopamina che è un neurotrasmettitore nel cervello o sono coinvolti nella produzione di melatonina o della tiroxina che è coinvolta nella conversione della formazione intestinale da T3 e T4 si distrugge tutto ma questa persona avrà 10-20 anni di problemi migliorare l'aspetto nutrizionale richiede tempo ci sono molti fattori esterni che possono interagire il primo passo è quello di tornare alla base pagina 29 e 30 e saprai quale alimentazione adeguata la situazione migliora con gli antibiotici credo che nessuno di voi sia un dottore e possa prescrivere antibiotici però dipende da paese a paese c'è un uso improprio di antibiotici quando andate a urinare espellete antibiotici in quantità tale da inquinare molto somministrando un'alimentazione corretta si ottiene una riduzione batterica se vengo da te e tu sei un naturopata ti domando puoi dimostrarmi che ho una crescita batterica? questa è la domanda che faccio ai medici dottore, può dirmi se ho un problema al fegato? sì o no? non ci sono due modi per dirlo non perdo tempo perché io insegno diabetici, endocrinologi, cardiologi e chi più ne è più ne metta si basano su questo la mia domanda è come fai a sapere se ho una proliferazione batterica? la risposta è sempre la stessa dovrebbero investigare ma non lo fanno questo report non è invasivo ti dà in 15 minuti il risultato sulla proliferazione batterica e questo è un fatto così abbiamo definito il primo passo per capire quale nutrizione sia corretta passo 1, stabilire cosa fare ci sono due vie, quella nutrizionale e quella medica io sono un dottore e correggo la proliferazione con l'antibiotico poi insegno al paziente qual è il cibo prebiotico, probiotico e postbiotico da assumere quanti di voi sanno cos'è il cibo postbiotico? uno kimchi è un postbiotico tutto il cibo fermentato sì volete farmi altre domande? sì, io ho alcune domande, nello specifico sono tre grazie per l'opportunità che mi offre nel punto 4 lei ha parlato di glutammina io ho avuto il cancro al seno poco tempo fa e dopo la chemio naturalmente ho dovuto ridurre i danni e ho dovuto davvero prendere integratori per ho fatto la ricerca sul cancro al seno e il collegamento con questo ammino acido fatemi sapere se c'è un legame e un collegamento positivo perché sono un po' sono un po' preoccupata vorrei qualche consiglio ok c'è una parola chiamata angiogenesi che significa crescita di nuovi vasi sanguigni sì, il cancro si nutre di glutammina quindi non dovresti prendere la glutammina quando hai il cancro l'altra delle altre cose è il rame sì, nei miei supplementi lo diciamo ma se li stai assumendo oralmente è ok ma non per endovenosa ok quindi se hai il cancro la glutammina è qualcosa che devi evitare per via endovenosa se la stai prendendo attraverso il cibo è una storia diversa in realtà stai alimentando le cellule tumorali per farle crescere di più sì, esattamente quindi se i clienti arrivano e hanno avuto una storia di cancro prima anche se non hanno il cancro o non ne sono sopravvissuti dovremmo comunque evitare di dare consigli su questo giusto? ok, hai bisogno di un professionista che ti aiuti a capire questo perché hai avuto il cancro questo è un report sulla nutrizione e non c'è modo di individuarlo come un errore devi variare perché è qui che entra in gioco la nostra intelligenza l'intelligenza umana entra in gioco non sbagli né hai ragione perché l'eccesso di qualsiasi cosa, compreso il rame, causa anche l'angiogenesi sai cosa sono le cellule staminali del cancro? cosa sono? è il motore principale per fondamentalmente? non esattamente lasciami riformulare hai il tumore principale, il tumore principale, sì sì c'è una peregina dentro, sì c'è una peregina all'interno nel tempo della resezione la peregina è migrata così 4-5 anni dopo si ottiene di nuovo il cancro che presenta la cellula cancerosa della peregina che è migrata che avrà un aspetto diverso quindi quello che le industrie hanno fatto è identificare le cellule staminali del cancro sì, ok, e molto probabilmente non ti verrà il cancro quindi non entrare in un'area medica quando non sei un medico, nemmeno io io non me ne occuperei, passerei la mano a qualcuno più qualificato sicuramente, però io parlo di me stessa perché quando prendo gli integratori, sì quello che suggerisco è di evitare la glutamina o qualsiasi forma aramaica alcuni dicono che è zinco, non sono molto convinto dello zinco, quindi non formo per parlare di cancro ah ok, grazie mille hai una seconda domanda ci sono alcune persone che si domandano sulla credibilità di chi fa il report quindi quasi con coraggio di sfidarmi l'ho testato oggi ma domani mangio un cibo diverso e faccio un test di nuovo così, quindi il report sarà diverso vedete la differenza? quanto spesso cambio? ma penso che in termini come un batterio chimico non penserei di cambiare ogni ora ma in termini di un'altra nutrizione possibile giusto quindi come possiamo davvero aiutare? ok, questa è una domanda sulla tecnologia che mi hai fatto se si controlla la pressione sanguigna sul braccio sinistro e si controlla sul braccio destro sono due cose diverse quindi qualcosa chiamato in vitro il cibo è ciò che sta succedendo nel tuo corpo e continua a cambiare costantemente per cui la persona con cui confrontarsi è un medico o un altro medico sì, beh non so se è la persona che dice che non funziona qual è l'autorità della persona che dice che non funziona? chi sei tu? quando faccio il test ai pazienti dico loro che questo report è per 90 giorni non si tratta di precisione tutti questi rapporti dicono che 100 indicatori non si vedono negli esami del sangue quindi perché venire a portare un modello di pensiero di un esame del sangue in un report nutrizionale? almeno ti dico una cosa francamente anche se mostri il 50% di accuratezza sono eccitato perché mi hai mostrato qualcosa che è mancato quindi non farti trascinare dall'affermazione sì, penso di sì, normalmente la gente è abbastanza sicura che non si tratti di un problema tecnico ti mostra qualcosa che potrebbe essere probabilmente la causa del tuo problema quello che sostengono è fondamentalmente nel report che in base alle indicazioni mostra il risultato di cosa mangi quel giorno ma il giorno dopo è diverso quindi questo confonde, sono un po' confusa anche se non ho mai provato ho chiesto a Ian per aiutarti a capire bene, sono venuto dall'ufficio per rispondere a questa domanda sei consapevole che la NASA ha effettivamente usato test dell'aria nello spazio esterno degli astronauti? quindi abbiamo intrapreso questo percorso tridimensionale poiché raccogliamo effettivamente 800 biomarcatori i quali ci danno un ampio spettro di informazioni quando si va per in vivo e test in vitro i risultati saranno sempre diversi perché stiamo usando diversi parametri per darci dei risultati perché stiamo guardando 800 biomarcatori che non si possono ottenere in un singolo test del sangue o un test dei tessuti dobbiamo dire che questo è autentico per i prossimi 90 giorni ma uno dei biomarcatori nell'epigenetica non dimenticate che stiamo guardando l'epigenetica sono le emozioni e tutti hanno detto come si fa? beh, ci abbiamo messo molto tempo e no, non voglio rivelare come lo facciamo ma questo è quanto è buono il report diciamo che qualcuno ha bisogno di calcio nel primo report sì, e poi gli chiedi di concentrarsi sul midollo osseo concentrarsi su un osso concentrarsi concentrarsi sull'osso e stai pensando all'osso o riesci a sentire il midollo sì, concentratevi su quell'osso chiudere gli occhi strappare i capelli fare i test tutto è cambiato e non hanno bisogno di calcio ma non possono camminare tutto il giorno pensando al calcio per generare le informazioni sul calcio nello stomaco così, quando si va per il secondo test il periodo di tempo il cambiamento si è già verificato nel vostro corpo ma tornerà ad un certo punto e abbastanza spesso quindi è saggio un test, il primo test è molto accurato il secondo test non sarà perché sei cambiato o stai pensando al dolore o stai pensando a qualcos'altro o stai pensando all'osso e sarà cambiato quindi l'epigenetica mostra anche le emozioni e le emozioni possono anche essere nell'intestino lo stress intestinale causa lo stress del cervello c'è un legame enorme tra entrambi spero che questo risponda alla tua domanda grazie mille, lo apprezzo molto bene, torno nel mio ufficio e lascio l'uomo più intelligente accanto a me apprezzo molto il tempo dedicato a me un'ultima domanda ancora un attimo prima però vorrei aggiungere alcune cose su quello che Ian ha detto ok? io attraverso cinque passi per trattare qualcuno primo passo la tua teoria deve essere giusta si dovrebbe mostrare da qualche forma di indagine sia l'indagine o qualsiasi altra forma test delle urine o il test a raggi X se il passo 1 e 2 sono giusti c'è il passo 3 la gestione sarà giusta se è così allora il risultato è giusto se il risultato è giusto allora dovrebbe essere riproducibile questo significa che qualcun altro può copiare i miei passi e riprodurli numero 2 quello che faccio in un report è che quando chiedo loro di ripetere un test magari da 4 a 6 mesi dopo sarà molto molto specifico su ciò che cercano cioè giusto allora per favore cercate i batteri o solo metalli tossici nient'altro non perdo tempo con la vitamina C e altre poche cose così oggi abbiamo avuto una chiamata da uno dei medici una ragazza di 15 anni si è rivolta a questo medico per fare i raggi X questa ragazza di 15 anni è legalmente cieca e il padre è un medico così il bambino è nato normale con vista normale e gradualmente ha perso la vista ora è una lotta fino alla fine così vi è stato dato un report per interpretarlo il valore del report è stabilire come una ragazza di 15 anni ha passato 15 anni di vita attraverso tutti questi argomenti abbiamo trovato alcune cose nel report che probabilmente potrebbero portare alla cicità gli viene diagnosticata la retinite pigmentosa non si può fare nulla così ora abbiamo un gruppo di medici che riflettono su cosa fare l'esame del sangue e questo confronto sono importanti? no così quando una persona ti pone questa domanda la persona ti sta trascinando tecnicamente all'appello che non è necessario perché siamo così abituati alle analisi del sangue ok, dite che ha fatto i nostri esami esami del sangue e del cervello non lo sapranno chiedete loro quale sia la costituzione del dentifricio che stanno usando e non lo sapranno perché improvvisamente sei diventato uno scienziato qui molte persone mi fanno questa domanda ok, quando i pazienti vengono a trovarmi io dico qual è il motivo per cui mi vedete qui ci sono circa 40 di voi che se la stanno prendendo quindi immaginate che centinaia di medici e in 64 paesi se la prendono con me per quello che ho fatto ok non farti abbindolare da qualcuno che non è intelligente stai dando a qualcuno una seconda vita qualcuno a cui stai dando una possibilità di lotta ok, la terza domanda? sì, sicuramente grazie mille le persone fanno domande, si informano credo perché ci sono così tante cose là fuori non credibili e le capisco ecco perché mi piace conoscere i dettagli in modo da sapere come rispondere alla gente in modo corretto quindi la domanda è potrebbe darmi un suggerimento potrebbe darmi le linee guida sul dosaggio voglio dire c'è una sorta di guida per il dosaggio glielo chiedo perché per me sarebbe importante avere più riferimenti possibili e non incorrere in eventuali errori sul dosaggio ok, quello che farei è per rispondere a questa domanda andare alla seconda metà dove parleremo dei dettagli poc'anzi esposti sì, questo ti dà una linea guida perché nel cibo la quantità è piccola e quindi è molto difficile la quantità ma questa è soltanto una linea guida la linea guida non è assoluta ok, vedi per esempio una persona un cinese che mangia diciamo il glutine viene fuori e improvvisamente gli dici per favore evita il glutine dai, tutti i noodles sono fatti di glutine quindi culturalmente dobbiamo essere molto attenti alle malattie ero online con il Messico e viene fuori di non mangiare riso come può dire loro di non mangiare riso? per cui ci sono voluti ci sono voluti tre anni per capire poi che il riso ha sia rame che zinco ok, il riso ha sia rame che zinco quindi l'arazio è uno a dieci quando si prende molto riso raffinato si ha una carenza di questo quindi ti dirò che ha soltanto il 5% di glutine molti richiedono una visione tridimensionale piuttosto che un tecnico che guarda in quel modo grazie sarà possibile in seguito più tardi in settimana essere formati e certificati dall'azienda? ok torna subito all'azienda e digli che la cosa richiederebbe una formazione molto specifica tu presenti il test tu fai un test e me lo presenti io lo traduco quindi ogni persona può fare un test e 40 test io li posso tradurre in 20 secondi ciascuno 20 secondi per report questo è il tempo che mi occorre potete anche cronometrarmi e non mi mandate il report dovete solo dirmelo ok, 20 secondi meraviglioso, non sto più nella pelle voglio imparare tutto questo qualcun altro vuol farmi una domanda? salve dottore sono Laura mi perdoni ma la mia telecamera non funziona sono nuova potrei fare una domanda da ignorante se un cliente viene e fa il test e c'è carenza di glutine che appare nel report come facciamo a sapere che la persona non ha il cancro anche se appare sano? l'altra domanda è quali sono gli indicatori che ci fanno capire che non dobbiamo dare degli integratori di glutine, glutammato e glutammina a queste persone a questa domanda in particolare quale risposta può darmi? ok, mi hai fatto una domanda molto difficile in primo luogo non dovresti trattarlo come un test diagnostico consideralo come nutrizionale se arriva questa domanda chiedete loro di andare a fare le analisi del sangue anche questo è un problema perché sono stato su questo report che è al mio livello non metterti in questa polemica ok? puoi prendere il cancro ok, posso risalire da 3 a 4 cancri da qui ma questo è per i medici, livello post laurea il vostro livello invece è basilare ok, posso fare una semplice domanda a tutti? posso chiederti? sì, sì è molto semplice, lavoriamoci insieme è un esame del sangue, ok? puoi vedere il cancro, sì o no? sì, si può come? HPCY allora, si può vedere il cancro con un test del sangue, sì o no? HPCY, credo ok, tu non sei un medico come ha detto? no, parlo solo delle normali analisi degli esami medici che tutti conosciamo no, no, il test deve essere specifico bene, quindi se ti mostrassi un test delle urine normale lo vedresti e diresti sì o no? no faccio i raggi X puoi vedere il cancro? sì, potresti no a meno che non sospettiamo, ok? sì, va bene quindi i raggi X non rilevano il cancro molto semplice lontano dalle polemiche sì, sì di nuovo, la persona ti farà la domanda forse avendo qualche membro della famiglia o qualcuno che sospetti di avere il cancro e loro vogliono individuarlo dal report e questo li deluderà ok, faccio anche qualcos'altro per il cancro ma non sono qui per parlare di questo sto solo parlando di questo qualcuno vuole sapere altro? grazie di tutto qualcun altro? sì, grazie se ho a che fare con delle persone che hanno mostrato nel report valori bassi di antiossidanti e di zinco ma nei minerali lo zinco non risultava un problema era una lettura normale qual è la lettura normale? beh, nel grafico a torta dei minerali lo zinco non è apparso come una priorità ma non era tra gli antiossidanti ok, risponderò a questa domanda nella seconda sezione altrimenti non capiresti oggi vi mostro i segreti che ho imparato e posso dirvi quali metalli tossici evitare grazie a questo senza esami del sangue bene l'ho chiamato RK2 che ha infatti il mio nome dottor Krishna e il 2 indica quali metalli tossici hai l'ho pensata così mi ci sono voluti 5 anni ma non voglio confondervi ok? altre domande? siamo da un'ora sulla pagina sull'intestino ok, qualcuno vuole fumare? piccola pausa continuiamo esattamente tra 120 secondi grazie 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 rieccomi questo è il capitolo dove la maggior parte la maggior parte dei problemi viene da qui Ok, allora vi spiego il primo settore chiamato metalli tossici. Qui si vedono i metalli tossici in questa sezione. Ok, lasciate che vi parli dei cinque prodotti chimici tossici più comuni. Cinque comuni metalli tossici. Numero uno è il mercurio. La calligrafia va bene? Dicono che la calligrafia dei medici sia pessima. Ok, mercurio. Allora, da dove viene mercurio? Quando vedi il mercurio, il peggiore dei peggiori metalli tossici nel mondo è il mercurio. Quando vedi che qualcuno ha il mercurio, controlla l'amalgama. Controllare il pesce che mangiamo, se è inquinato, causa mercurio. Il peggiore dei peggiori è questo. Quindi puoi tornare indietro e leggere le fonti ambientali di mercurio. A volte non avremo mercurio nelle urine, ma in qualche modo, sia nel cibo o da qualche esposizione all'inquinamento, è possibile assumerlo. Il numero due è il cadmio. Il cadmio proviene dai fumatori. Ok, il cadmio può provenire da un fumatore primario o da un fumatore di seconda o di terza mano. Allora, cos'è il fumo di terza mano? Aver lasciato della cenere in giro e qualcuno l'ha toccata accidentalmente. Quindi, seguitemi molto attentamente. Quando si fuma, questo può andare a temperature molto, molto alte e fonde tutti i metalli e poi si inala. Entra nei polmoni e dai polmoni va nel flusso sanguigno. Dal flusso sanguigno va nel fegato. Dal fegato va nei reni ed esce nelle urine. Cosa succede in una lunga esposizione nel rene? Il rene ha due milioni di filtri. Si chiamano nefroni. Ok? Due milioni di nefroni. Lascia che ne prenda uno di questi filtri. Il filtro è così. Questi sono i vasi sanguigni. Qui c'è il filtro. Qui si espella l'urina. Ci sono due milioni di filtri. Quello che farà il cadmio è uccidere le cellule qui. Probabilmente possono finire con una insufficienza renale. Il cadmio può anche venire dal cibo, ma soprattutto dall'inquinamento da fumo passivo che si sta inalando e dall'inquinamento. Ad esempio, quando si vede una famiglia che guida in macchina e il padre che fuma con tutti i finestrini chiusi. Anni dopo, il bambino sviluppa tutti i tipi di problemi. È un attimo. Quindi, numero uno. Numero uno è il mercurio. Numero due è il cadmio. Il numero tre è il piombo. Il piombo viene dai tubi, dallo scarico delle auto e molte altre cose. Per favore, digitate su Google e scoprite le fonti ambientali del piombo. Questo è il terzo tra i metalli tossici più comuni. Il quarto metallo tossico è l'arsenico. L'arsenico, di nuovo, proviene dall'acqua e da molte altre fonti. L'ultimo è l'alluminio. L'alluminio viene dagli utensili da cucina e dal lievito. Puoi tornare indietro e cercare su Google alluminio che è molto comune. Quindi immaginate che questa sia una padella in alluminio con una temperatura molto alta e la state raschiando. Faccio un esempio. Per esempio, una mamma nutre la sua famiglia e un po' alla volta, usando gli utensili, la famiglia sviluppa una intossicazione. C'è qualcosa a riguardo che voglio dirvi. Ok, ci sono due problemi con i metalli tossici. Uno è il bioaccumulo. Bioaccumulo significa che il tuo corpo accumula per un lungo periodo di tempo prima di mostrare i sintomi. Quindi non è apparso da un giorno all'altro. Secondo, non è biodegradabile. De-gra-da-bile. Non si degrada. Questi sono i due problemi con i metalli tossici, ma il problema più grande con i metalli tossici è qualcosa chiamato emivita. Cos'è l'emivita? Diciamo che ho fatto colazione e dalle 4 alle 6 ore dopo pranzo ho già fame. Quindi circa la metà del tempo di durata del metallo si chiama emivita, per cui l'emivita del piombo è di 24 anni. Non esce presto dal corpo. Alcune sostanze hanno emivita di 20 anni. Bene, questo è il motivo per cui ci ammaliamo e quindi quando una persona viene a trovarmi. Mi chiedono in quanto tempo puoi rimuovere questi metalli? Rispondo che forse sono lì da 10-20 anni e io non posso rimuoverli in un mese, ma ci vorranno da 3 mesi a 2 anni. Non è così semplice. Ok, mi seguite? Vi mostro alcuni approfondimenti che potrebbero aiutarvi. Diciamo che ho un problema di cuore. Bene. Mi seguite? Pollici in su. Ok. Il piombo si deposita nelle ossa. l'osso. E questo qui è il calcio che si deposita nel cuore. Vasi sanguigni. E il calcio si deposita qui. Così, 30-40 anni dopo, quando hai un dolore al petto e vai in ospedale, ti fanno un check-up e scoprono che il tuo vaso sanguigno è ostruito, per cui ti chiederanno di fare uno stent o un bypass. In realtà il danno risale a molto, molto tempo prima. Quindi, secondo me, quello che facciamo è rimuovere i depositi di calcio e di piombo. Con un processo invertiamo la condizione del cuore, in modo tale che questa persona non ha più bisogno di... di un bypass. Queste sono le cose che insegno ai medici. In secondo luogo, come si presentano questi metalli tossici? con il test S-Drive. Perché quello che succede provoca l'infiammazione. L'infiammazione la vedrete come carenza di omega 3. La vedrete come carenza di antiossidanti. vedrete un sacco di carenze di antiossidanti. Vedrete questo come carenza di glutamina. Si può vedere la crescita eccessiva dei batteri perché l'immunità è scesa. quindi il segreto è quello che faccio io è scoprire qual è la causa scatenante di quella condizione. quindi in tutto l'S-Drive in tutto l'S-Drive non guardo alla vitamina C, vitamina E. Sto solo cercando un fattore che cambi il corso della malattia. seguite? Mi sono preoccupato di tutti questi piccoli piccoli dettagli e mi sono detto se cambiassi questo cambierebbe il corso, sì o no? Così quando ero in India, quando studiavo, c'era un cardiologo che mi ha detto sai abbiamo fatto un test per lui, si è rifiutato di vedere. Questa ovviamente era una semplice domanda, vero dottore? Qualunque sia la carenza di cui parla, se cambiamo la carenza cambierebbe il corso della malattia? Volete sapere la risposta? Sì o no? Indovinate cosa mi è successo. Colto dall'imbarazzo, non sapevo rispondere alla domanda. Così sono tornato dopo quattro mesi. Sono tornato per insegnare ai medici come interpretare questa relazione. Quali sono le uno o due cause principali per cambiare il corso della malattia? Semplice. Questo elimina tutto il resto. Tutto il resto. Semplice. Tutto ok? Bene. Quindi la causa principale e la maggior parte dei problemi sono dovuti ai metalli tossici. Ok, secondo. Questo è esattamente quello che ho mostrato al paziente e li ha molto molto allarmati. Volete sapere il segreto? Quanti di voi vogliono conoscere il segreto? Uno o due. Siete in pochi. 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 Questo è il segreto che ho mostrato al paziente. Dico a loro. Punto uno. Tutti i vostri metalli tossici o sostanze chimiche vengono dall'ambiente. bene. E poi sono finiti nel vostro corpo. Dal corpo sono entrati nelle vostre cellule. Dalle cellule sono entrati nel vostro cervello, nei vostri organi, nei vostri tessuti, nel vostro sangue, nelle vostre ossa. Queste quattro immagini sono sufficienti a spaventare chiunque. Quindi quello che dico loro è molto semplice, posso aiutarvi a rimuoverli. A questo dovete stare attenti. Nel vostro report, se andate alla pagina numero 28 e cliccate sul modo in cui questo viene, quello è il primo passo della prevenzione. Questo invece è il secondo passo della gestione. Inutile cancellarlo finché lo si continua a tirare dentro. Inutile curare il paziente se continuo a fumare. Allora dico che ora sta andando in ogni parte del vostro corpo. Per rimuoverli ci vorranno da tre mesi a due anni. Quindi ho sviluppato vari metodi per fare questo per voi, perché non siete medici. Quindi molto probabilmente si può dare la chlorella, la glutamina, il glutatione e molti altri farmaci adeguati. Ho sviluppato un integratore che effettivamente attraversa il cervello e rimuove i metalli tossici. Non disponibile in Australia o in Nuova Zelanda. Però è così semplice che non si deve lottare. Di nuovo, non è disponibile da nessuna parte dei vostri paesi. Quindi è necessario mostrare questo diagramma. Ed è allora che si sommano tutte le vostre domande o scompaiono. Mi è stato chiesto, come lo sai? Chiedi loro di fare un esame del sangue o delle urine per i metalli tossici che ferma la discussione. Questi sono i piccoli sigaretti che dovete cogliere. Ok. Mi scusi dottore, è possibile rilevare la presenza di sostanze tossiche attraverso un esame del sangue? Sì. E gli costerà molto. Si può testare tramite test delle urine. Si può testare con gli oligoscan. S-Drive non è progettato per raccogliere solo i metalli tossici. È progettato per raccogliere 100 indicatori. L'esame del sangue è specifico per i metalli tossici se lo richiedi. Puoi fare anche il test delle urine, specifico per metalli tossici. Chiedete loro di studiare tutto il corpo. Grazie. Ok. Bene. Allora andiamo ad alcune cose d'aiuto. domanda che qualcuno mi ha fatto sullo zinco. Ok. Lasciate che vi dia un piccolo segreto. R-K-2. Il mio nome è Radha Krishna 2. Radha Krishna 2. R-K-2. Trovate lo zinco. Questa era la domanda che qualcuno mi ha fatto. Mi avete chiesto, cos'è un zinco funzionale? Lo zinco ha cinque funzioni. Serve per i capelli. Serve per il sistema immunitario. Serve per l'intestino. Serve per la tiroide. e indirettamente protegge dalla tossicità da cadmio. Sì, da cadmio. Se mi fai una domanda attinente, lo zinco lo trovi negli antiossidanti, non nei minerali. Quindi si tratta di biodisponibilità. Spero di averti risposto. Per cui, se si vuole sapere se la persona ha ottenuto metalli tossici o no, è necessario trovare due indicatori che dovrebbero essere nella pagina dei minerali. Nella pagina antiossidanti dovresti trovare lo zinco e nella pagina ambientale dovresti trovare i metalli tossici. Quindi, se vai nella pagina dei metalli tossici e trovi metalli tossici e poi trovi carenza di zinco, sia tra gli antiossidanti che nella pagina dei minerali, significa che il veleno ha una tossicità da cadmio. Se il paziente vuole una prova, chiedigli di pagare 200 o 500 dollari per farsi l'esame del sangue. Così vi ho mostrato una scorciatoia in modo che possiate guardare come potrebbe essere uno qualsiasi dei cinque. Ma per essere molto specifici, si dovrebbero mostrare i metalli tossici e di sicuro mostrarli alla pagina dei metalli tossici o alla pagina antiossidanti. Significa che il paziente resiste all'insulina. Decodifico i cinque metalli tossici usando le S-Drive senza fare un esame del sangue. E mi ci sono voluti cinque anni, migliaia di rapporti, centinaia di articoli di ricerca sullo zinco. Lo zinco e il cadmio avevano lo stesso percorso, ossia seguono la stessa strada e il metallo tossico cadmio supera lo zinco. Quindi è lo stesso percorso. Questa è biochimica. Ok. Chi è il prossimo? Se vuoi sapere qualcosa di molto specifico, può essere nella prossima lezione. Ma per il momento sto solo passando attraverso ogni settore, ok? Perché gli altri non mi hanno mai fatto una domanda e non svelo il segreto. Bene, penso che Michel mi abbia fatto la domanda e sto dando via via un segreto, ossia come leggere un test senza esami del sangue così non li aspetti. Altrimenti la gente spenderebbe un sacco di soldi. Nel momento in cui si vuole prescrivere un trattamento, si perdono molti soldi e non ne hanno abbastanza per curarsi. Ok? Il prossimo è prodotti chimici. Abbiamo circa mezz'ora, quindi lasciatemi finire. Se guardate le sostanze chimiche, viviamo in un mondo di prodotti chimici. Quindi, quando vedete le sostanze chimiche, si prega di stampare pagina numero 28 e leggerete il giorno principale dove il metallo tossico si ottiene e dove si è esposti a sostanze chimiche. Numero uno, come leggere questo? E' semplice. Ok? Si può? Perché è scritto lì. Prodotti chimici e idrocarburi. Allora, da dove possono venire le sostanze chimiche? Andate indietro e vedete pagina 28. Il download è scritto da così tante cose. Può essere dal profumo, dalle vostre padelle antiaderenti, dallo shampoo che state usando, dalla tinta per capelli che state usando, dallo smalto che state usando. E' molto difficile individuare le sostanze chimiche. E' molto difficile, ma quello che dico ai pazienti è semplice, dico loro. Se io non sono preoccupato, tu non preoccuparti. Se io mi preoccupo, tu dovresti preoccuparti. Ma se io non sono preoccupato, ma tu lo sei, prendi il mio posto. Si ferma la discussione perché a loro piace guardare tutti i dettagli. Secondo, un'interpretazione completa dice loro molto semplicemente di non prendere consigli professionali da individui non qualificati, tra cui i dottori. Se sono così bravi, dimostratemi che hanno sviluppato qualcosa nel mondo. Come quello che sto affrontando ora di fronte a 40 di voi. Ok? Quindi non è così semplice come quello che state vedendo qui. Bene, che cosa sono gli idrocarburi? Gli idrocarburi provengono dalle sostanze aromatiche come inalare la colla. Quindi, se siete in una nazione occidentalizzata, dovete guardare i vostri figli quando fate un test. Potrebbero inalare colla. Ok? O qualche forma di droga può provenire dal petrolio. Abbiamo avuto un bambino che aveva 12-13 anni ed è diventato uno zombie. Anche lui si drogava e è stato visto da tre ospedali in Malesia e poi alla fine hanno pensato che fosse depressione. Così lo psichiatra mi ha chiamato. Abbiamo fatto un test, abbiamo trovato sostanze chimiche e poi abbiamo trovato la carenza di Omega 3. E poi abbiamo sospettato che si trattasse di colla inalata. Perché c'era una controversia. Così mi hanno dato qualche giorno per provarci. Ho dato i miei integratori. Indovinate che cosa è successo. Entro poche ore, il bambino si è svegliato dal sonno profondo e ha chiesto a McDonald's. Era una corsa contro il tempo perché volevano fare le CT per il cervello. Bene, lo psichiatra ha creduto in me. Così in questo modo abbiamo fatto camminare i pazienti. Un paziente era tetraplegico. Ha camminato perché gli abbiamo rimosso dal cervello delle sostanze chimiche. In questo modo abbiamo numerosi report dai miei integratori. E quindi questa pagina è molto potente se non vi siete resi conto della sua importanza. Non fateli trascinare dalle persone che dubitano. Quindi tu rimani fedele alle tue idee. Sei più intelligente di chiunque altro. La tua intelligenza è ineguagliabile. Ok. Così può essere per altre cose. Come da alifatici. Tornate indietro e leggete prodotti petroliferi. Questi prodotti. Profumi. L'intera lista è lì. Ma quello che voglio dirvi è, perché siete una nazione occidentalizzata, se vedete sostanze chimiche, se vedete prodotti chimici, andate alla sezione cibo e cercate il glutine. Inevitabilmente troverete mais, grano, orzo, segale e altro non ricordo. Tutti sono da OGM. Bene. Non c'è un test specifico per OGM ad oggi. O meglio, non uno semplice. Ma con S-Drive mi ci sono voluti quattro anni per dire che questo cibo è OGM. Hanno detto che hanno preso cibo biologico. Davvero? Non credete alle etichette. Bene, quindi dai prodotti chimici scendiamo alle... radiazioni. Siete ancora con me o siete stanchi? Ho allenato medici dalle otto alle dodici ore al giorno. Tutto ok. Bene, quindi... Quindi il prossimo indicatore è... Le radiazioni. Bene, che cosa sono le radiazioni? Anche le radiazioni hanno due fonti. I livelli di radiazione possono avere effetto diretto o effetti indiretti. Effetti diretti vengono dai raggi X o le procedure mediche, come Cernobil o nucleare. Effetti indiretti invece dall'ambiente. Quindi, se si guarda un grafico, quasi il 37% provengono da procedure mediche. Un altro 38 e più per cento proviene dall'ambiente. Quindi può venire dal pesce, può venire dai fertilizzanti, può venire da moltissime fonti. Ma lasciate che vi sorprenda, ok? Siete pronti? La tua casa potrebbe essere sottoposta a radiazioni e tu non lo sapevi. Le radiazioni provengono dall'uranio. Diciamo che bevo un bicchiere d'acqua. Il prodotto finale del mio bere un bicchiere d'acqua è l'urina. Il prodotto di degradazione. Il prodotto di degradazione o di decadimento dell'uranio è il piombo. Impiega dai 4.4 ai 4.6 miliardi di anni. Quindi, tra questi prodotti vi è radon, torio e il resto. Bene. Quindi questo materiale, l'uranio, può essere sotto la vostra casa. Può essere nelle intercapedini. Bene. Prendiamo qualcuno, specialmente una persona che mangia molto pesce. Possono essere esposti a radiazioni. Radiazioni senza che loro lo sappiano. Quello che ho trovato in un sacco di pazienti, non voglio darti un valore certo, hanno sempre radiazioni e cambiamenti nella tiroide. I pazienti di ipotiroidismo subclinico sono malati cronici, ma non sono sicuri di cosa nell'esame del sangue sia normale e trovano radiazioni. Quindi cosa fa il piombo? Porta a depositi di sangue nell'osso e disperde il calcio dalle ossa al cuore. Così, un bel giorno, quando ai meno di 40 o 50 anni, vai col dolore al petto in ospedale e ti trovano un blocco cardiaco. Non hanno fatto teste per le radiazioni, per i depositi di calcio. Tutto questo è a causa del deposito di piombo che causa delle radiazioni. Quindi si fa medicina legale, si va alla ricerca di ciò che è la causa principale, di ciò che è la causa principale e si possono invertire questi risultati. Ok? E abbiamo anche trovato tutti questi problemi associati a una condizione medica dolorosa chiamata autoimmunità. Tutto quello che devi fare perché non sei un medico, basta eliminare queste tre poche cose e il paziente diventa migliore. Mi prego di capire che state dando la vita a qualcuno, state dando una vita di qualità, qualcuno che non poteva rilevarli da esami del sangue normali. Ti diranno, dottore ho visto così tanti esami del sangue, così tante migliaia e migliaia di TAC, risonanze magnetiche, ho fatto le indagini, tutte normali. Ma il test S-Drive vi mostrerà tutte le cose che si sono perse. Quindi non confrontiamo la parte medica e decidiamo che cos'è che non hanno fatto. Noi lo aggiungeremo. Questi sono i test che non hanno fatto, quindi li facciamo per dire loro che questa è probabilmente la causa. Non abbiamo un conflitto di interessi. Se il vostro linguaggio è fare un confronto con l'esame del sangue, allora non andrete da nessuna parte. Vediamo cosa non hanno fatto. Questo dovrebbe essere il linguaggio. Stai facendo amicizia con la persona, stai dando vita a qualcuno, non stai combattendo qualcuno. Se il tuo linguaggio è tale, allora lo stai combattendo. Questa è la domanda che vi chiedo. Qual è il confronto? Qual è la precisione? Perché il test del sangue è diverso. Questo è diverso. Queste domande torneranno. Dite loro, ok, un ospedale ha fatto questo. Vediamo cosa non hanno fatto. Questo è un test che non hanno fatto. Vediamo dal test cosa viene fuori. Perché la radiazione è lì? A cosa sei esposto? Hai metalli tossici. Guarda dove sei stato esposto dai metalli tossici. E se vogliono saperne di più, di loro di fare un test per metalli tossici. Bene. Così ti dà una base per capire perché non andiamo dal medico, ma ci concentriamo solo sulla nutrizione. Siete d'accordo con me? Finora? Bene. Ok. Allora che ore sono? Ok, quindi sono un po' in anticipo sui tempi. Voglio svelarvi un segreto. Quaranta di voi sono ancora online con me. Nessuno di voi scomparirà. Voglio dirvi di un indicatore, perché penso che il peggiore dei peggiori problemi del mondo siano i metalli tossici. E il peggiore dei peggiori metalli tossici è il mercurio. Ok. Allora. Sto prendendo un'altra richiesta da Ian. Perché penso che siate un gruppo di persone molto speciale. E penso che sia ora di cena per voi. Bene. E penso di voler aggiungere valore prima di arrivare alle domande. Tornando a parlare di RK2, se la tua pagina di minerali o la pagina di antiossidanti mostra una carenza di selenio, Questo è uno. Il secondo indicatore che deve mostrarsi nella pagina di metalli tossici. Presenza di metalli tossici. Non prenderne uno. Devi considerarli entrambi. Deve averne due. Bene. Questa è la tossicità da mercurio. Quindi avete un report che è così fantastico che in realtà non c'è bisogno della prova con l'esame del sangue. Se si oppone, chiedeteli di spendere altri 500 dollari per fare un test delle urine e del sangue. Ha troppi soldi. Chiedetegli di donartene un po'. Capito. C'è gente lì fuori che crede che il mondo non finisca finché si hanno i soldi. Voi capite che questa tecnica è perché state dando la vita a qualcuno e trovo migliaia di persone che hanno tossicità da mercurio. E un sacco di persone hanno problemi di salute basati su questo. Sviluppano il diabete, sviluppano l'ipertensione, sviluppano l'autoimmunità, problemi al fegato, problemi ai reni, problemi alla pelle. Bene, prima di fermarmi qui, l'ultima cosa che voglio spiegarvi è la seguente. Quanto siete disposti a darmi? Quanto siete disposti a pagarmi per rivelarvi questo segreto? La pelle è uguale all'intestino. Tratta l'intestino seguendo la pagina sull'intestino e debellerai i problemi alla pelle. Fatto. Nessuna discussione. Di nuovo, pagina sull'intestino. La pagina sull'intestino equivale ai problemi della pelle. Tutto quello che dovete fare è concentrarvi su questo. e con gli S-Drive test eliminerete sia le vostre allergie, l'asma e supererete anche la psoriasi. La pagina sull'intestino equivale ai problemi della pelle. Tutto bene? Quindi mi fermo qui. Abbiamo circa 15-20 minuti per le domande. Potete farmi qualsiasi domanda. Dottor Rada, ho una domanda che mi viene posta regolarmente in relazione alla top 10 degli alimenti da evitare. Alcuni clienti possono mangiare alcuni alimenti e molti di loro lo fanno. Quindi la domanda è Perché gli alimenti appaiono nel report se non sono qualcosa che le persone consumano o ricordano di consumare? È un'ottima domanda. Ho avuto già questa domanda. E ho avuto difficoltà a rispondere a questa domanda. Perché? Potrei rispondere io perché è una domanda tecnica. E così, siccome ho trattato questo per anni, posso dirvi il back office di 61 ingegneri informatici in Germania. Quindi l'epigenetica fa parte del genoma. Quindi numero uno. Se i genitori o i nonni hanno avuto, diciamo, erano allergici al salmone, viene fuori dal tuo DNA fino al tuo genoma. E non hai un'allergia, ma hai una risonanza che dice che non ti piace il salmone. Molte delle domande che riceviamo sono perché elencate qualcosa che non mi piace? E poi la domanda di ritorno è l'avete mai mangiato? La risposta è no. Più spesso non è no. Non l'hai mai mangiato. Non mi piace. E no, non lo voglio. Perché è lì? Perché è sceso dal vostro genoma, dai vostri genitori e dai vostri bisnonni e dai vostri nonni. Ed è per questo che viene mostrato. Ma uno o due degli elementi, forse tre o quattro, in realtà lo si mangia davvero molto. E loro ne mangiano molto, in un modo o nell'altro. Il mio consiglio a tutti voi è che se volete far sentire meglio qualcuno ed essere sicuri che vi hanno effettivamente pagato dei bei soldi per un report intelligente e un consiglio intelligente. Numero uno. Il mio consiglio è di seguire sempre quello del dottor Rada. Ma una cosa da non fare per le prime 48 ore è non mangiare il cibo che hai elencato. Uno di questi è il tuo cibo preferito. Potrebbe essere il caffè, potrebbero essere i fagioli, potrebbe essere qualsiasi cosa. Non fatelo mangiare. Telefonate al vostro cliente dopo 48 ore e controllate che non l'abbia fatto e si sentirà effettivamente meglio perché quel cibo lo sta stressando e sta causando un compromesso per tutta l'altra buona alimentazione che sta prendendo e tutte le altre cose buone che fa nella vita. Quello è ciò che sta causando loro più dolore. E come ha detto il dottor Rada in modo così sensato è che ci vuole tempo perché la nutrizione e perché il buon cibo si scomponga nell'intestino per vedere una reazione. Se si toglie qualcosa come un cibo irritabile non un'allergia ma un cibo irritabile entro 48 ore si sentono molto meglio e sono pronti a seguire il percorso di 90 giorni e a seguire i consigli che il dottor Rada vi sta dando sull'intestino che è l'80% di ciò che sta succedendo nel loro corpo. Spero di avere risposto. Grazie. Quindi ora aggiungo qualcos'altro alla risposta perché io tratto coi medici e loro sono molto competitivi non accettano questo tipo di risposte. Per cui la mia domanda a livello medico è chiedere loro quale college medico ti insegna a fare un esame del sangue per l'epigenetica. Se il loro o il mio college medico me lo chiede allora io rispondo che voglio verificare se eseguono test del sangue epigenetici perché non esiste un esame del sangue per l'epigenetica. ora se dite di sì alcuni nasconderanno la loro stupidità altri la annunceranno ad alta voce ma la domanda stessa che so è che la persona non sa e che diranno il falso ad alta voce e li confuterò. E per l'epigenetica se hai avuto i nonni con una intolleranza al glutine e che è passata attraverso i geni ai loro genitori e infine a noi questo è un segnale raccolto non è necessariamente il cibo che stai mangiando ma è un segnale dato dall'epigenetica non è uguale a un esame del sangue quindi sto parlando dal punto di vista medico questo è esattamente quello che dico al medico qualunque college abbia fatto quale università medica ti ha insegnato a fare l'esame del sangue per l'epigenetica? lascio perdere perché non ho tempo per discutere con i medici che stiano al loro posto ci sono altre domande? Salve dottor Radha ho una domanda sui metalli tossici se qualcuno è esposto al metallo tossico o sostanze chimiche il trattamento è uguale sia a chi sia un adolescente o un anziano? ad esempio gli anziani sono più deboli e dal test sappiamo che ci sono metalli tossici se volessimo rilevarli possiamo applicare la stessa procedura per tutti i pazienti? puoi rifarmi la domanda per capire esattamente il tuo ordine di idee? va bene per te? ok i metalli tossici sono molto diversi dai prodotti chimici nei prodotti chimici i livelli molecolari sono molto bassi e può essere molto transitorio quindi non mi preoccupo la domanda che pongo a tutti è che tu sia un dottore o no? sei sintomatico o asintomatico? perché il problema è che molti medici e tutti gli altri ti diranno immediatamente di fare un test diciamo che siete in salute per 30-40 anni e poi portate il vostro test del colesterolo ad un medico cosa vi dice il medico? che stai bene ma che però morirai a causa di queste malattie allora dovresti rispondere così la prima domanda che farai al medico è se sono sintomatici o non sintomatici se non sei sintomatico allora possiamo andare piano se sei sintomatico ti sta causando un problema medico che minaccia la tua vita e allora andrei di nuovo l'età è molto importante ho trattato pazienti che hanno più di 97 anni o che hanno solo un mese e non è mai la stessa cosa il dosaggio è diverso la metodologia è diversa perché il metabolismo del bambino non fa parte del fegato e i suoi enzimi sono diversi quindi siamo molto attenti tutto questo sarà basato sulla discussione con me e io discuto con i medici su come procedere per esempio se vogliamo dare probiotici volete davvero dare probiotici da un bambino così piccolo vogliamo dare la vitamina A quindi diciamo che ci sono due tipi di medici il primo tipo di medico guarderà ogni dettaglio e andrà dietro a tutto il secondo tipo di medico invece raccoglierà ciò che è più importante per cambiare il resto e poi lo farà io sono il secondo tipo di medico guardo a uno dei due indicatori e lo seguo e non cambio tutto quindi spero di qualificare la risposta che state cercando per tutte le persone dai 50 ai 60 anni molto probabilmente hanno difese deboli e le loro funzioni corporee sono al 50% quindi rispondono in modo diverso le persone più giovani non sono un problema quindi dobbiamo stare molto attenti alla fascia d'età tutto ok? ti ho risposto? altre domande? dottor Radha ho avuto un uomo che è venuto per un test ed è venuto fuori che eccezionalmente aveva alto il livello di radiazioni ma non aveva mai fatto raggi X nella sua vita visto che sono del distretto Vaikato gli ho fatto una domanda ho detto hai visitato di recente le grotte di Waitomu? ha detto sì lo scorso fine settimana e gli ho chiesto quanto tempo sei stato sottoterra e lui ha risposto tre ore e poi è emerso che doveva essere il gas Radon a cui era stato sottoposto qual è la domanda? che stava causando gli alti livelli di radiazioni e poi mi ha detto ma tutta la mia famiglia deve avere i livelli alti e io dissi non posso dirlo e loro dissero fai i test ma è possibile ok questa non è una risposta esatta le radiazioni colgono molti di noi di sorpresa compresi i medici ma come medici pensiamo sempre che si possano prendere con una radiografia o qualcosa del genere se non hanno fatto una radiografia la prossima domanda è con una esposizione di 24 ore il test risulterà positivo? non posso saperlo perché quello che ho trovato è diverso le persone rispondono in modo diverso a causa del corredo genetico ho visto una persona fumare per 30 anni due pacchetti al giorno e il test non ha indicato né sostanze chimiche né metalli tossici prima di oggi era solito dire lei ha questo, questo e quest'altro non è venuto fuori nulla così ero in Taiwan e c'erano 30 medici seduti lì assieme ad un nutrizionista poi sono tornato e ho scoperto che alcune persone avevano 40-50 citocromi geneticamente modificati quindi alcune persone possono bere una bottiglia di vino ogni giorno senza che abbiano subiscano alcun effetto alcune persone possono avere radiazioni quindi non farsi trascinare dalla presenza di qualcosa ed equipararla ad altro è molto difficile da dire fino a quando non facciamo un test per vedere forse che sono molto spaventato vi dirò perché ho molta paura di rispondere a questa domanda questo è un test fatto in tutte le nazioni, ok? sono dati che state raccogliendo dalla Nuova Zelanda e dall'Australia e li state esponendo ora ok? dovete stare molto attenti perché se noi costruiamo dati certi su questo state sfidando team di scienziati di altre nazioni per esempio in India stavamo facendo molti test e in certe parti del paese trovavamo un sacco di radiazioni quindi la persona che sta discutendo viene dall'India e se voi doveste rivelare certe cose come questa nella ricerca atomica e la ricerca BABA in India vi avrò preceduti quindi è necessario dimostrare un fatto per cui piuttosto non entrate in tutti questi tipi di discussioni dettagliate lasciate perdere e trattate solo i sintomi se il paziente è sintomatico voi trattate i sintomi i dettagli di questo e siete molto molto preoccupati per certe cose di legalità medica o questioni legali in termini relativi ai dettagli in un livello molecolare non credereste che l'ho appena dimostrato voglio dire ho appena dimostrato su una tavola bianca che posso andare vendato e ancora scrivere nel livello molecolare che cosa dimostra? non dimostra niente ma non è tutto beh posso dirvi in termini di percentuale che la vostra domanda direi che nel 10% dei report mostra che di persone molto famose delle quali non menziono alcun nome persone molto famose in Scandinavia il loro test ha rivelato che avevano radiazioni che non credevano possibili in Scandinavia e così ci fu una discussione e grazie al cielo però l'operatore che con S Drive Test aveva parlato con il dottor Radha ha mantenuto la sua posizione e sono andati a fare un rilevamento di radiazioni alla casa hanno scoperto radiazioni nella casa e sotto la casa la casa è stata condannata ma questo è stato circa un anno fa e sono stati molto malati e successivamente hanno perso 14 kg di peso e poi sono andati anche in tv a testimoniare come il report dell'S Drive abbia salvato loro la vita quindi bisogna essere consapevoli che le radiazioni sono un problema e allo stesso modo sono un problema in America non so se sapete che fino a poco tempo fa alcuni visitatori cinesi visitatori, scusate alcuni produttori della Cina usavano l'uranio nella vernice ed erano completamente ignari che la vernice avesse l'uranio dentro quindi è lì e abbonda per cui dobbiamo stare attenti a raccoglierlo eh sì, bisogna stare attenti quando si ha a che fare con l'uranio ok, dottor Rada, a lei la parola qualcuno ha altre domande? ok, avete altre domande da fare? altre domande? no ok, vi dimostro qualcosa qual è il potere dell'S Drive? proprio così quindi disegnerò alcune cose che in realtà non sono necessarie perché voi capiate dottor Rada, prima che tu lo faccia c'è un'altra domanda che credo ti sia sfuggita sì? qual è la domanda? eh, sono solo curiosa qual è il tuo integratore nutrizionale preferito per disintossicare dai metalli pesanti? puoi ripetere? qual è l'integratore primario per la disintossicazione dai metalli pesanti? il modo più semplice di procedere il modo più semplice è uno dare probiotici due dare l'acetil cisteina 600 milligrammi al giorno per sei giorni a settimana per un minimo di tre mesi questo è il metodo più semplice che possiamo fare potete fare così oppure potete anche aggiungerne un terzo che può essere l'acido alfa lipoico questo è il metodo più semplice per disintossicarsi dai metalli tossici a parte qualella, zolai e molti altri ancora quello che credi adatto lo puoi somministrare altre domande per favore grazie nessuna abbiamo approssimativamente tre minuti potrebbe parlarci del protocollo per l'eczema che aveva anche menzionato precedentemente lei ha detto che tutto ciò che riguarda la pelle risale all'intestino cosa farebbe normalmente? come tratterebbe i pazienti? ho sviluppato degli integratori per quello ma per te che non sei un medico tutto quello che devi fare è cercare l'infezione batterica l'infezione da parassiti e l'infezione da funghi e ne ottieni la causa scatenante step 1 guarda il tuo report e prendi un'infezione batterica se c'è parassiti e funghi bene secondo passo una volta fatto questo puoi dare prebiotici probiotici e ancora acido alfa lipoico e acetilcisteina e acetilcisteina fatto e ne devi dare per un minimo di tre mesi da una settimana a due settimane si guardi il report dell'esdrive potrebbe essere uno qualsiasi di loro inoltre passo 3 glutine per un periodo di tre mesi tre mesi sarebbe quindi eliminare il glutine per tre mesi per tre mesi poi si può suggerire di fare un esdrive nel quarto mese perché non posso dire se definitivamente il glutine è la causa principale può essere un insieme di fattori ok grazie bene quindi prima di andare via dottore dove possiamo leggere gli integratori che lei ha inventato possiamo darci un'occhiata è una domanda difficile penso di sì o no ne ho uno in tasca che in futuro entrerà nel mercato globale quindi attualmente non è disponibile da nessuna parte in Australia, Nuova Zelanda solo in Malesia il farmaco è composto da 25 ingredienti diversi e con questo si superano un sacco di malattie ti ho appena mostrato i tre passi cosa fare questo è abbastanza buono il mio è un modello Ferrari che sarà disponibile in futuro bene altre domande? a meno che tu non abbia qualcuno molto molto malato una malattia che minaccia la vita allora potete scrivere a Salul Bing che sia un problema di cuore o diabetico allora posso altrimenti dovrete aspettare il 2021 questo aiuta anche chi ha l'Alzheimer? con l'Alzheimer ci sono diverse cose da fare chi ha l'Alzheimer? un padre di un mio amico ha l'Alzheimer ed è per questo che mi interessa scusate prego chi è che sta trattando l'Alzheimer? un padre di un mio amico ha l'Alzheimer purtroppo chi è che sta trattando l'Alzheimer? il dottor il dottor Rada sta chiedendo chi sta curando l'Alzheimer perché se è un amico di un amico ci sono 40 persone qui che potrebbero essere interessate o meno ma il dottor Rada lo so ha aiutato molte persone incluso me ho 77 anni e ho ancora un cervello il che è strano soprattutto per un inglese quindi suggerirei di inviare la domanda così potremo rispondere meglio e se c'è qualcuno che gestisce il paziente con l'Alzheimer allora il dottor Rada non dovrebbe parlare con te semmai dovrebbe parlare con il responsabile dell'assistenza al paziente di Alzheimer perfetto grazie mille non c'è di che dottor Rada so che vuoi finire con un pezzo molto speciale per gli ultimi minuti siamo in ritardo grazie a tutti mi dispiace che sia così tardi da voi e sera grazie per aver speso il vostro tempo con noi e apprezziamo molto che crediate in self-being perché il mio desiderio è proprio quello di toccare il cuore di 10 miliardi di persone prima di decidere di lasciare questo pianeta e voi siete sulla buona strada per aiutarmi quindi lo apprezzo molto grazie mille dottor Rada vi lascio con le sue ultime parole Dio vi benedica incontrate molti pazienti diabetici? sì disegnerò un diagramma per te giusto un minuto quando arriva un paziente con intorpidimento dolore ulcera non guaribile non copiarlo primo passo glucosio a glucosio 6-fosfato a fruttosio 6-fosfato passa a gliceraldeide 3-fosfato e a 2-3 di fosfo glicerato questo diventa così quest'altro così questo diventa A-P-K-C e quest'altro A-GES e questo appare nel test drive come lipidi proteine e acidi nucleici così il modo migliore quando una persona sta assumendo abbastanza farmaci e ancora mostra sintomi come questi significa che in questa parte gli zuccheri nel sangue potrebbero essere normali seguitemi acido alfa lipoico date una dose di 600 mg al giorno per 3 mesi così ricaverete un po' di tempo ho imparato questo dall'est drive e abbiamo sviluppato gli integratori basati proprio su questo tipo di cose quindi questa è pura biochimica e io decodifico un sacco di casi basandomi sulla biochimica e questa è solo una dimostrazione di ciò che posso fare ben dato puoi svegliarmi alle 3 del mattino e io lo disegno ugualmente quindi voglio ringraziare ognuno di voi per essere rimasto sveglio è un dispositivo meraviglioso grazie mille e arrivederci un dispositivo meraviglioso grazie mille ciao ciao ciao